Ciao a tutti e bentornati. Terry Smith, uno degli investitori più famosi e che seguo più attentamente, pochi giorni fa ha sganciato la bomba, rilasciando alcune dichiarazioni molto dure e senza mezzi termini sul tema dei dividendi. Le sue parole sono state molto chiare. Nessuno dovrebbe investire in azioni per i dividendi. So già che queste parole e l'intero video di oggi potrebbero scatenare la rabbia in molti investitori che amano i dividendi. Se vi prudono le mani e state già iniziando a scrivere commenti per criticare il contenuto di questo episodio, vi chiedo un favore. Aspettate. Non sto scherzando. Aspettate a scrivere qualsiasi cosa. Guardate il video con calma, ragionate insieme a Terry Smith e insieme a me. In questo video vi garantisco che non esprimerò alcun parere personale. Mi limiterò a esporre le dichiarazioni di Terry Smith e farò degli esempi con dati reali presi dal mio portafoglio. Quindi, tutti i dati e i numeri che vedremo in questo video saranno innegabili e non potranno essere contestati. Accettare la realtà dei fatti è il primo passo per lasciarsi alle spalle alcune convinzioni errate e alcuni bias psicologici per iniziare a investire in modo consapevole. Poi, una volta che ognuno di noi avrà ben chiaro i pro e i contro di ogni strategia di investimento, allora si potrà scegliere. Essere consapevoli di quali siano i limiti o i vantaggi di ogni strategia è fondamentale, altrimenti finiremo per scegliere sempre in modo sbagliato poiché non avremo chiara la situazione. Pronti? Iniziamo! Faccio subito una premessa importantissima. Nel mio portafoglio ci sono diverse aziende che pagano dividendi, quindi io non ho nulla contro i dividendi in sé. Questo vorrei che fosse chiaro. Se un'azienda mi piace e ne compro le azioni, il dividendo è l'ultima cosa che guardo e non mi interessa se l'azienda paga o meno un dividendo, anche perché non posso scegliere io se farmi pagare il dividendo oppure no. È una scelta dell'azienda. E come dice Warren Buffett, l'importante è che la politica sui dividendi di un'azienda sia chiara e costante nel tempo, per evitare di generare incertezza e malcontento tra gli investitori. Questo vale quando parliamo di azioni. Se parliamo di ETF, invece, la situazione è totalmente diversa, poiché io ho la possibilità di scelta tra ETF ad accumulazione o a distribuzione. E quindi posso scegliere gli ETF ad accumulazione che reinvestono i dividendi massimizzando l'interesse composto. Se volessi incassare soldi come fossero dividendi, potrei semplicemente vendere qualche quota del mio ETF, quando ne avrei bisogno. Ne abbiamo già parlato in altri video, ma tra qualche minuto faremo anche un esempio pratico e reale usando il mio portafoglio, così da tognerci qualsiasi dubbio. Ora però passiamo a Terry Smith, uno degli investitori più famosi del mondo, spesso definito il Warren Buffett inglese, per gli ottimi rendimenti generati dal suo fondo, ma anche per lo stile di investimento. Chi segue questo canale da un po' di tempo sa che a Terry Smith ho già dedicato alcuni video e ho anche preso spunto dalla sua strategia per scegliere le azioni in cui investire. Pochi giorni fa, Terry Smith ha rilasciato un'intervista e uno dei temi di cui ha parlato è stato proprio l'investimento focalizzato sui dividendi. Per chi volesse leggere l'intervista completa, lascerò il link qui sotto nel primo commento. Il conduttore inizia il discorso in questo modo, rivolgendosi a Terry Smith. In passato hai detto che nessuno dovrebbe investire in azioni per i dividendi. Mi piacerebbe che ci spiegassi come mai la pensi così e perché ritieni che gli investitori debbano concentrarsi solo sul total return anziché sui dividendi. Ecco la risposta di Terry Smith. Se un'azienda paga un dividendo, significa che non può reinvestire quel denaro nel proprio business. Questo è ovvio. Gli investimenti migliori sono quelli che hanno un elevato ritorno sul capitale e riescono a reinvestire tutto o quasi tutto il cash generato per far crescere l'azienda. Un esempio perfetto è Berkshire Hathaway, il conglomerato gestito da Warren Buffett, che non ha mai pagato un dividendo in tutta la sua storia. Sarebbe stato meglio se l'azienda avesse pagato dividendi? No, perché Buffett è stato capace di reinvestire il denaro all'interno dell'azienda con un alto ritorno sul capitale. Quindi noi dovremmo cercare aziende che hanno un elevato ritorno sul capitale e investirci. Non fissiamoci sui dividendi. Se abbiamo bisogno di soldi, possiamo vendere qualche azione di tanto in tanto. Il problema è che questo approccio fatica a essere accettato dalla mentalità di alcuni investitori che non concepiscono il fatto di vendere qualche azione. E qui arriva una parte fondamentale del discorso di Terry Smith che continua dicendo «Cosa pensate che accada quando ricevete un dividendo? Pensate che i soldi vengano creati dal nulla e cadano dalle nuvole? L'azienda vi sta dando dei soldi che non potrà reinvestire e lo fa al posto vostro e lo fa anche nel modo più inefficiente che ci sia dal punto di vista fiscale. Questo perché, come sappiamo, un dividendo viene tassato per intero, mentre quando vendiamo azioni o quote di un ETF paghiamo le tasse solo e soltanto sulla parte di capital gain, non su tutto l'importo. È una differenza abissale che molti investitori ancora non hanno capito e proprio per questo motivo tra poco faremo un esempio pratico. Terry Smith prosegue distruggendo un altro pilastro degli investitori fissati coi dividendi. Dice Molte persone si preoccupano poiché vendendo quote periodicamente può capitare di venderle durante un crollo del mercato. Ma cosa pensate che accada quando durante questo crollo l'azienda paga un dividendo? È la stessa cosa eppure non vi lamentate. E in effetti questa cosa mi ha sempre lasciato basito. I detrattori degli ETF ad accumulazione si lamentano sempre poiché in questi ETF i dividendi vengono reinvestiti sempre anche quando i prezzi sono ai massimi. Ma allo stesso tempo non si lamentano quando gli ETF a distribuzione pagano i dividendi durante i crolli quando i prezzi sono più bassi. In questi momenti sarebbe proprio l'ideale reinvestirli e solo un ETF ad accumulo può farlo senza pagarci le tasse che invece paghiamo noi quando incassiamo un dividendo. Quindi, in questo caso gli amanti dei dividendi guardano solo quello che fa comodo a loro ignorando tutti gli aspetti negativi della distribuzione. Non è questo il modo di fare un ragionamento corretto. E Terry Smith continua a rigirare il coltello nella piaga. Questi investitori sembra non capiscano da dove provengano i soldi ricevuti in dividendi. Provengono dal cash a disposizione dell'azienda che non viene reinvestito nel business e ha lo stesso effetto di vendere azioni manualmente. Quindi, confermo quello che ho sempre detto nessuno dovrebbe investire in azioni per i dividendi. Perché le persone finiscono per fare pessime scelte di investimento fissandosi sui dividendi. Ricercando i dividendi finiscono per comprare aziende che generano rendimenti inferiori sul lungo termine. Terry Smith sta dicendo che molto spesso fissarsi sui dividendi induce le persone a comprare azioni che sul lungo termine generano rendimenti inferiori al mercato. Alcuni esempi sono le famose Coca-Cola, Pepsi, Johnson & Johnson, aziende che pagano dividendi crescenti da 50 anni ma che negli ultimi 10 o 20 anni hanno generato rendimenti totali inferiori al mercato anche includendo i dividendi nel conteggio. Di fatto, quindi, chi abbia investito in queste azioni ha lasciato soldi per strada rispetto a comprare un banale ETF assumendosi però un maggiore rischio specifico per la singola azienda. Questo, ovviamente, non significa che nessuno debba investire in queste aziende. Ognuno deve essere libero di investire come desidera ma chi lo fa deve essere consapevole che molto probabilmente avrà rendimenti inferiori. Tutto qui. Quindi, in estrema sintesi, Terry Smith dice di non guardare al dividendo pagato da un'azienda. Dice di concentrarsi solamente sulle aziende migliori e i rendimenti verranno da sé. Altrimenti, rischiamo di lasciare molti soldi per strada se ci fissiamo sui dividendi. Con gli ETF questo concetto è ancora più evidente e quindi, parafrasando Terry Smith, possiamo dire che nessuno dovrebbe mai investire in ETF a distribuzione. Facciamo un esempio reale prendendo la mia situazione. Come sapete, io ho circa metà del mio portafoglio investita nell'ETF SVDA ad accumulazione. Per fare questo esempio, arrotondiamo alcuni numeri per comodità. In questo ETF io oggi ho circa 80.000 euro totali. Ovviamente ho molte quote e ho un prezzo medio di carico di 80 euro. Oggi una quota ha un prezzo di 100 euro. Anche in questo caso ho arrotondato per semplicità. Significa quindi che io su ogni quota ho un capital gain di 20 euro. Cioè la differenza tra il mio prezzo di carico che è 80 euro e il prezzo attuale che è 100 euro. Io oggi decido di vendere una quota e quindi pago le tasse solo sulla parte di capital gain. Il capital gain su questa quota abbiamo detto essere di 20 euro. Quanto pago di tasse? Pago il 26% su 20 euro e cioè 5,20 euro. Vendo una quota che vale 100 euro e pago 5,20 euro di tasse. Mi restano in tasca 94,80 euro e dai miei 80.000 euro iniziali tolgo i 100 euro della quota venduta e mi restano investiti 79.900 euro. Se invece l'ETF fosse a distribuzione riceverei un dividendo lordo di 100 euro e pagherei il 26% di tasse su tutti quei 100 euro. Quindi pagherei il 26% di 100 cioè 26 euro. Dal dividendo lordo di 100 euro mi rimarrebbero in tasca solo 74 euro e mi resterebbero investiti come prima gli 80.000 euro iniziali meno i 100 euro dei dividendi staccati dall'ETF. Quindi anche in questo caso 79.900 euro. Ricapitolando vendendo una quota pagherei 5,20 euro di tasse e avrei in tasca 94,80 euro. Incassando in dividendo pagherei 26 euro di tasse e avrei in tasca 74 euro. Una differenza abissale soprattutto se la pensiamo rapportata a cifre molto più grandi. E teniamo presente che in entrambi i casi il capitale che mi resta investito è identico poiché il resto con 79.900 euro investiti in entrambi i casi. Quindi vi prego dal profondo del mio cuore non scrivete nei commenti che vendendo quote prima o poi finiranno. Finiranno se e solo se un giorno deciderete di staccarvi un dividendo del 100% ma nessuno sano di mente lo farebbe ovviamente anche un etf a distribuzione andrebbe a zero se pagasse un dividendo del 100% e mi dispiace ma io davvero non mi capacito di come sia possibile che molte persone non capiscano questo concetto molto semplice. Per fare un paragone se in tasca ho 100 euro non cambia nulla se ho 10 banconote da 10 euro oppure 100 monete da 1 euro in totale ci sono sempre 100 euro nella mia tasca lo stesso vale per il numero di quote possedute di un etf se ho 79.900 euro il numero di quote è irrilevante posso avere 500 quote 1000 quote o 2000 quote ma in totale sono sempre 79.900 euro investiti quindi ripetiamolo ancora una volta il numero di quote è totalmente irrilevante quindi cosa ci portiamo a casa da questo video e dalle parole di Terry Smith prima di fare il punto finale se questo video vi è piaciuto vi chiederei gentilmente un like ed iscrivervi al canale sapete che mi fa sempre molto piacere e ovviamente sono molto curioso di leggere i vostri commenti qui sotto sperando che abbiate tutti capito che non c'è alcuna volontà da parte mia di fare polemica ma solamente di divulgare dei fatti inequivocabili innanzitutto vorrei infatti sottolineare che non ho nulla contro i dividendi o contro chi investe basandosi sui dividendi ognuno è liberissimo di investire come vuole e anzi ognuno deve investire nel modo che lo faccia stare più sereno e gli faccia dormire sonni tranquilli quindi se per qualcuno l'unico modo è l'investimento in dividendi ben venga ci mancherebbe altro anche Terry Smith nel suo fondo di investimento ha comprato alcune aziende famose per i dividendi come Pepsi Philip Morris e Procter & Gamble ma non lo ha fatto per i dividendi lo ha fatto principalmente perché i prezzi delle loro azioni generalmente sono meno volatili rispetto alla media e lui ha la necessità per il suo fondo di non subire oscillazioni di prezzo eccessive poiché altrimenti molti investitori non sarebbero in grado di sopportarlo emotivamente Terry Smith quindi suggerisce di concentrarci sulla qualità delle aziende e di non prestare troppa attenzione ai dividendi poiché altrimenti rischiamo di scegliere aziende che ci porteranno rendimenti inferiori al mercato facendoci lasciare soldi per strada e per di più assumendoci anche un rischio specifico i dividendi se ci sono fanno solo parte del rendimento totale che è l'unica cosa che conta per noi investitori in conclusione la cosa importante è essere consapevoli dei pro e dei contro se c'è questa consapevolezza allora va benissimo scegliere la strategia che ognuno di noi preferisce anche se fosse meno redditizia il problema nasce quando non c'è questa consapevolezza quando si nega la matematica e quando si pensa che gli tf a distribuzione siano più efficienti di quelli ad accumulazione questo è falso e lo abbiamo dimostrato con l'esempio di poco fa altrimenti se non abbiamo questa consapevolezza potremmo credere di fare scelte adeguate ma in realtà stiamo facendo scelte sbagliate sarebbe come voler risolvere delle equazioni di matematica pensando che 2 più 2 faccia 5 se le premesse sono sbagliate tutti i calcoli successivi saranno sbagliati a loro volta e lo stesso vale per le nostre scelte di investimento io spero davvero di non vedere troppe polemiche nei commenti qui sotto poiché in questo episodio abbiamo visto insieme dei fatti inequivocabili e spero che ognuno di noi possa utilizzare queste informazioni nel modo migliore prima di salutarvi vi ricordo che fino alla fine di ottobre è attiva la promozione per iscriversi su directa l'intermediario che utilizzo io per tutti i miei investimenti iscrivendovi su directa utilizzando il mio codice di invito avrete 100 euro di bonus commissionale fino alla fine dell'anno significa che i primi 100 euro di commissioni non li pagherete e saranno gratis fino a fine anno e vi ricordo infine anche che potete seguire l'andamento in tempo reale del mio portafoglio tramite il sito get queen di cui trovate il link qui sotto in descrizione per oggi è davvero tutto non mi resta che darvi appuntamento al prossimo episodio ciao ciao